Siamo a far vedere come è fatto il telefono togliendolo dalla cover Ragazzi, ammirate, è bello, lo dice uno che è partito della MIUI e degli Xiaomi, è veramente bello E un'altra cosa, consiglio sempre la pellicola a vetro, quella certamente per tutti E' una buona custodia da mettere Ma su tutti i telefoni, non soltanto Ok, una domanda Ma tu, ok, prima avevi il 6S, ma hai sempre avuto iPhone? Allora Quali sono stati i telefoni precedenti al 6S? Al 6S ho avuto l'iPhone 6 normale, il 5, perché il 5S non l'ho avuto Perché mi è stato rubato il 5 Sì, il 5 mi ricordo che ti ero rubato Ho avuto il 4S, il 4, il 3GS e il 3 E ho avuto anche un 2G Diciamo che sono tutti belli, alla fine sono tutti belli Dal primo fino all'ultimo dell'Apple La cosa bella dell'Apple Quando vai in Apple Store Hai un problema col telefono Hai una Teni un appuntamento È un'assistenza che altri non ti danno Perché gli altri ti devono Sì, sì, questo Devi portarlo da loro direttamente E ti fanno aspettare un sacco di tempo Infatti sono venuto qualche volta anch'io con te All'Apple Store Vabbè, l'unica Ha dei prezzi molto elevati Però vabbè Sappiamo che cos'è l'Apple Beh, è una cosa che Paghi il brand però Paghi un signor telefono È un signor telefono Oltre che Diciamo che Sulla computeristica Sul computer Nessuno Ha avuto da ridire Sì, i Mac sono eccezionali Molto eccezionali Quindi sappiamo tutto Gli oggetti Va bene Al posto c'ho Un Un Apple Watch Preso proprio così Per 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 sfizio Per sfizio Sì, perché tu sei patito anche Non solo di Apple Watch Ma di tutti E varie cose Di smartwatch Di smartwatch Ma non soltanto di Apple Watch Ma di altre 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 case Altre Altre marche Sì, ne provi tanti Infatti Ogni tanto Me ne passa qualcuno E quindi Devo dire che Mi trovo abbastanza bene L'Apple Watch È quello più Più completo Perché È Un Orologio Dove ti Arrivano le notifiche Dove ti arrivano I messaggi Dove puoi Fare la chiamata Dove puoi fare la chiamata Puoi ricevere la chiamata Mandare messaggi Avere le immagini Dei tuoi cari Con Rispondere con Whatsapp Adesso c'è anche questa Questa Lapp dedicata No Si poteva già fare Con Whatsapp Potevi già rispondere Già con l'Apple Watch Già Quando sono stati fatti Gli aggiornamenti nuovi Funziona da Dio Cosa dire L'unica Forse Sarebbe stato Troppo Forse troppo Futuristico Sarebbe stato Se poteva fare La videochiamata Con l'orologio Però Non mi stupirei Se in un futuro Accadesse Io ti dico una cosa Ci sono dei rumori Che L'Apple Sta testando Gli Apple Glass Io Gli occhiali E Un'altra cosa E in più Anche I I telefoni Flessibili Anche loro Lo stanno facendo Ho notato Che poi Oltre alla serie E' poi uscita La nuova serie Dell'Apple Watch 2 Che Rispetto All'Apple Watch 1 Alla serie 1 Non ha il GPS Non ha il GPS Non ha il GPS Integrato Quindi Sfrutta il GPS Del telefono La prima serie Ma la seconda Ce l'ha E la seconda Ce l'ha Diciamo che è una comodità Per chi E' impermeabile E' impermeabile Sendo che poi Io Mi sono dovuto adattare Ho preso una Una custodia E' ermetica Per l'acqua Quindi Però Diciamo che Nel Ragazzi Su questa custodia E' quella Della Della Catalyst Mi sbaglio Sì Abbiamo fatto il video Andatevelo a guardare E Cosa dire di altro L'ho fatto prima di Galeazzi E vorrei dire questo E Poi Vabbè Altri Ah L'unica L'unica cosa L'unico rammarico Ho notato che L'Apple Non Non fa più iPod Per la musica Rispetto Non c'è nessuna novità Eh beh Ma sinceramente Non vedo utilità Sono rimasti Eh sì Purtroppo sì Perché Molta Ormai Il telefono Viene Viene sfruttato Anche come Tutto Anche come computer O come Vabbè Diciamo che Si è un po' Come arenata Su quella cosa lì Sì Forse perché Boh Beh secondo me Non ne vederebbe Però Devo dire Devo dire Che gli iPod Era una comodità Perché Tu non sfruttavi La batteria Del telefono Perché Stai un paio d'ore Beh ci sono ancora A sentire la musica Diciamo che Ti si Ti si consuma Sì Un'altra cosa Cosa c'è da dire ancora Niente Ah l'unica cosa Mi piacerebbe Se la Apple Costruisse Oltre allo Smart watch Agli smart Uno smart band C'è un bracciale Più che un orologio E' vero Manca Mancarebbe proprio questo Perché E poi ho notato che La Adesso ultimamente Ho preso Un Smart band Della cellula Line Che si possa Sganciare E si può usare Come bluetooth Ed è compatibile Ed è compatibile Con l'Apple L'unico difetto Che ho trovato In questo oggetto In questo è L'inclusione Nell'orecchio Perché Fa fatica A stare Nell'orecchio Quindi Non rimane Ben saldo E quindi Una pecca Per una cosa Veramente utile Perché E' molto comodo Quando tu Sei In giro E non hai voglia Di tirare fuori Il cellulare Perché Hai questo bracciale Un attimo Lo sganci E Chiami E' una cosa Molto Positiva L'aveva fatto Anche la Huawei Con Però Abbiamo visto Che Ho notato Che non ci sono stati Tanti riscontri Quindi Tante vendite Sì infatti L'avevo visto Anch'io lo volevo Comprare Ho preso Ho preso Questo qui Della Cellular 9 Perché era A un prezzo Buono Oltre Sui 65 euro E Diciamo Che È Un prezzo Molto accessibile A tutti Ok E Un prezzo Ora E Un prezzo Cross